Ciao a tutti e benvenuti, avete tranquillamente la possibilità di sgridarmi o di farmi qualche critica perché per tutta la settimana non ho parlato di un Maldini avversario del Milan e dal punto di vista mio storico lo considero un bel buco che ho preso. L'ultima volta che è successo risale al gennaio 1967 in un Milan Torino a San Siro, Cesare Maldini avversario del Milan, questa volta Daniel Maldini avversario del Milan, solo che nel 1967 Cesare Maldini era avversario del Milan, invece oggi Daniel è avversario anche di papà e quindi insomma, però c'è chi ci ha pensato più e meglio di me oggi sui giornali, complimenti a loro. Quindi avete sentito, poi parliamo di Leao, bene, però avete sentito, fra un annetto andremo in consiglio comunale. Ha fra un annetto? Bene, quindi Milan e Inter condannate ad altri anni di strapassivi, ad altri anni da comprimari nella grande Europa del calcio, perché poi fra un annetto andremo in consiglio comunale, non è che fra un annetto vai in spiaggia o in una spa, entri in altre sabbie mobili. Quindi di annetto in annetto si è deciso così, io pensavo invece, pensa che sciocco, a un'accelerazione e invece siamo qui a dire, ci stanno dicendo andate avanti a perdere soldi a San Siro, che è un monumento, io non voglio mancare di rispetto a San Siro, sia ben chiaro, però la condanna è questa. No, San Siro va tenuto su, tenetelo, le squadre andranno altrove, oppure il Milan andrà altrove e a San Siro o ci giocherà l'Inter, pur avendolo costruito il presidente del Milan, Piero Pirelli, oppure rimarrà una landa desolata, più o meno come adesso quando non ci sono partite. OneFootball, ve lo ricordo, OneFootball a vostra disposizione, OneFootball vi aspetta, scaricate l'app di OneFootball e nella descrizione di questo video c'è il link, scaricatelo. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è la casa del calcio e streaming, l'app di OneFootball è a vostra disposizione, tante partite, tanti highlights, tante notizie, anche Milan, se scegliete il Milan come squadra preferita, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball è gratuita e vi aspetta. E quindi sullo stadio butta così, ieri poi c'è stata la dichiarazione a favore di Matteo Salvini, contro di Vittorio Sgarbi e di Silvio Berlusconi, per cui direi bene, ieri è stata una giornatina da questo punto di vista, per cui ragazzi, se andiamo in Champions League, il mercato funziona così più o meno, se si va in Champions League si può prendere un giocatore, quest'estate abbiamo preso Charles, due stati fa abbiamo riscattato Tonali e Tomori, altrimenti no. Ragazzi, questa è la situazione, non andare a San Siro significa questo, per cui poi quando ci saranno le polemiche sul Milan, sull'Inter, risultati, il mercato eccetera eccetera, parleremo con i comunicati, con i comitati, chiedo scusa, parleremo con i comitati, i comunicati non c'entrano nulla, parleremo con i comitati, parleremo con l'annetto, parleremo con le opposizioni, gli illuminati eccetera 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 eccetera. E quindi va bene così. Non andrà a finire così, ma per quanto riguarda ieri e queste ore va bene così. Ora, io ho trovato francamente non meraviglioso il riferimento spazzuto in prima pagina sulle AO proprio il giorno di una partita, proprio a ridosso di Milan-Svezia. Per carità, la situazione esiste, la vicenda esiste, quindi un giorno o l'altro è sempre prima di una partita. Però ecco, oggi, va bene, fa parte della vita, fa parte del calcio, nessuno fa drammi, nessuno fa polemiche, abbiamo superato di ben altro. Paolo Maldini aveva parlato di rinnovo entro il mondiale, aveva fatto riferimento dicendo che bisogna essere in due e vediamo cosa succede. Fino adesso non è successo granché. Io, ripeto, in questo calcio qui, che è una questione sostanzialmente di soldi, perché noi, vedete, se il calcio non costasse l'ira di Dio che costa, noi staremmo tranquillamente a San Siro, evidentemente. Solo che in un calcio italiano che non genera ricavi, non genera risorse, non genera introiti, tu devi fare qualcosa. Dai diritti tv non puoi prendere altro e i ricavi da stadio invece tuo di proprietà ti consentono di svoltare e di tener testa, perché oggi i costi del calcio sono assurdi e quindi il calcio è una questione di soldi. Se è una questione di soldi e visto che c'è chi ama all'ora del tramonto con una sorta di spleen bodeleriano avere lo spirito per ammirare San Siro magari vuoto senza partite, noi invece siamo costretti, noi che siamo cinici, noi che siamo cattivi, noi che pensiamo solo al denaro siamo costretti a immaginare il più bello stadio del mondo per la nostra città se lo faremo con l'Inter o per la nostra squadra se lo faremo da soli, tutto è aperto, tutto può essere sia per gli uni che per gli altri. E quindi lo stesso riguarda i giocatori, io guardo di stagione in stagione chi è in rosa e se chi è in rosa dà il massimo, quando chi è in rosa dà il massimo io sono contento. Non possiamo in questo momento fare altri discorsi, io credo e penso quello che ho scritto questa mattina su Milan News e quello che vi dicevo ieri mattina qui. Penso che Rafa Leao insieme a questa società, a questa dirigenza, a questo allenatore, a questo staff, a questi compagni di squadra si stia già costruendo un futuro importante per se stesso, per i traguardi a cui ambire e quant'altro. Per cui direi che il futuro può essere tranquillamente questo, poi non c'è ancora l'intesa economica, mi auguro che con l'adeguata convinzione, gli adeguati sforzi e sacrifici da ambo le parti si possa arrivare ad una soluzione. Ieri ne ho sentita una carina in giro, poi per carità ragazzi, tutte le opinioni, io le definisco carine ma non voglio mancare di rispetto a nessuno, tutte le opinioni sono legittime e sacrosante, ma ieri mi sono imbattuto in uno che diceva, ma adesso lascio il tema Leao, passo al tema Charles, ma poi questo Charles de Quetela non mi sembra neanche un buon giocatore, del resto la scorsa estate oltre al Milan c'erano solo il Lizza e il Leicester, non lo voleva nessuno. Va bene, benissimo. Dico semplicemente, quando abbiamo preso Leao, visto che stavamo parlando di Leao, nell'estate 2019, chi lo voleva? Quando abbiamo preso Tonali lo voleva l'Inter, ma sentivo i tifosi dell'Inter dire, appena l'abbiamo preso noi, che era un giovane retrocesso con il Brescia, poi non so se chi dice le cose si ricorda di quello che dice, non lo so, è vero che ne diciamo talmente tante che anch'io mi scordo di quello che dico, ma questa me la ricordo un giovane retrocesso col Brescia che all'Inter avrebbe fatto la riserva, quindi c'era chi lo cercava come riserva, chi non lo cercava, per cui direi che non è un buon argomento, anche questa mattina su questo sono intervenuto su Milan News, dicendo guardate che dopo 12 partite il mercato del 2019, che è un mercato sensazionale, un mercato epocale perché ha costruito l'ossatura che sta durando ancora oggi nel tempo del Milan campione d'Italia è tornato negli ottavi di Champions League, dopo 12 partite tutti i protagonisti del mercato del 2019 o giocavano poco o giocavano male, quindi era da buttare il mercato del 2019, invece nel tempo si è rivelato che non era così, per cui prima di parlare del mercato 2022 lasciamo passare un po' di tempo, perché il tempo è galantuomo, poi chi ha detto certe cose se le ricorderà, non se le ricorderà, problema suo, noi intanto oggi pensiamo alla partita, ci vediamo allo stadio subito dopo Mina Spezia, ciao a tutti più tardi